Buongiorno, buongiorno e benvenuti, sono Paola Pirani di Formezpia, vi do il benvenuto al webinar l'autorizzazione unica ambientale. È il sesso incontro del progetto in relazioni per il rafforzamento della capacità amministrativa degli sportelli unici per le attività produttive e la formazione degli stakeholder. Questo progetto è proposto dalla regione Piemonte in collaborazione con Anci Piemonte per quanto riguarda la promozione e Formezpia per la realizzazione. È un programma, questo webinar è all'interno di un programma formativo informativo in materia di attività produttive, ambiente, edilizia, urbanistica ed è rivolto alle pubbliche amministrazioni piemontese e in particolare ai responsabili degli sportelli unici, enti terzi e agli stakeholder. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è quello di formare il personale addetto agli sportelli unici del territorio al fine di aumentare la loro capacità di applicare le norme relative alle procedure autorizzatorie e per concludere tutte queste procedimenti in tempi celeri e certi. Tra le attività in programma si stanno svolgendo un totale di dieci webinar, oggi stiamo al sesto e andremo avanti fino al mese di marzo. Le modalità di partecipazione le potete trovare prima di tutto nella pagina di eventi IPA per quanto riguarda come ci si scrive nel nodo 8236, poi tutte le indicazioni tecnologiche al nodo 15041, ma soprattutto questi eventi sono dedicati appunto alle IPA piemontesi e bisogna poi richiedere una scheda anagrafica all'indirizzo piemontesua.com.it per tutti coloro che vogliono partecipare. Tutto l'elenco dei nostri webinar, quelli che abbiamo fatto e quelli che faremo, li potete trovare nel nodo 24943 della pagina di eventi IPA e cliccando su ogni titolo potete essere collegati alla pagina di eventi, per quelli già svolti troverete tutte le registrazioni, il materiale didattico e le risposte alle domande poste nella chat. Oggi appunto dopo l'apertura di questo webinar avremo il nostro docente Riccardo Roccasalva e dopo la trattazione una buona mezz'ora per le risposte delle domande, delle vostre domande che potete porre nella chat. Quali sono gli argomenti che andiamo a trattare? I procedimenti di AUA, ambito di applicazioni e casi di esclusione, l'obbligatorietà e facoltività dell'AUA, il riparto delle competenze, il ruolo del SUAP e dell'autorità competente, la gestione delle conferenze di servizi nel procedimento, rinnovo e modifiche sostanziali, competenze negli adempimenti successivi al rilascio dell'AUA. Ma di tutti questi argomenti in maniera approfondita parlerà appunto il nostro docente. La chat, questo strumento importante nel quale avrete il supporto nostro dello staff e soprattutto potete porre le vostre domande che saranno poi date al docente. Ovviamente se non ci sarà tempo per rispondere a tutte le domande come è già successo per i webinar precedenti, li troverete poi per iscritto nelle pagine nelle quali avete fatto l'iscrizione. infatti nella pagina di eventi IPA, nodo 33 59 19, potete trovare le slide, troverete nelle prossime ore le slide, le registrazioni e la risposta alle domande. A questo punto non mi resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento, lasciare la parola al nostro docente e io rimango in chat con voi. A dopo. Grazie Paola, grazie a tutti e ben ritrovati. Allora, come si diceva prima, l'argomento di oggi sarà la trattazione del procedimento di AUA, quindi il procedimento di autorizzazione unica ambientale disciplinato dal DPR 59 del 2013, quindi entrato in vigore ormai quasi nove anni fa nel mese di giugno del 2013. Allora, procediamo con le slide. Giusto qualche brevissima definizione. Quando tratteremo di AUA, naturalmente oltre al SUAP, sappiamo tutti cos'è, nella normativa troveremo spesso definizioni come il gestore, i soggetti competenti in materia ambientale, i cosiddetti SCA, l'acronimo, e naturalmente l'autorità competente. L'autorità competente, secondo l'articolo 2 del DPR 59, quello che deve adottare il provvedimento di AUA, è quasi in tutte le regioni italiane individuate nella provincia o città metropolitana, così come appunto in, insomma anche in Piemonte, ed è quella appunto che riceve i pareri dai soggetti competenti in materia ambientale adotta l'AUA. I soggetti competenti sono invece chi sono? Sono le pubbliche amministrazioni, sono le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che intervengono nei procedimenti dei titoli sostituiti dall'AUA secondo le disciplina nazionali e regionali di settore. Da questo punto di vista devo subito introdurre un aspetto problematico della disciplina, che è dovuta soprattutto al raccordo dal punto di vista terminologico tra il DPR 59 del 2013, che è un DPR, una normativa di carattere procedimentale, e invece il Codice dell'Ambiente, il Deretto Legislativo 152 del 2006, che come sapete invece contiene norme non solo di procedura ma anche diritto sostanziale, quindi contiene la disciplina sostanziale in molti campi ambientali. Qual è il problema? È che in molti aspetti, nei vari endoprocedimenti, che poi dopo vedremo sono sette, quelli previsti dall'articolo 3 del DPR 59, endoprocedimenti ambientali che oggi rientrano nel perimetro dell'AUA, per il Codice dell'Ambiente determinati enti sono considerati autorità competenti, ok? Visti come procedimento a sì, ma chiaramente nell'ambito dell'AUA l'articolo, il Decreto 59 li tratta quegli sessienti, che appunto il Codice dell'Ambiente tratta come autorità competente, li sono soggetti competenti, perché l'autorità competente, l'autorità competente ai fini AUA è una soltanto ed è la provincia o città metropolitana di Torino. Quindi questo è quello che dobbiamo considerare che può creare confusione soprattutto per quelli che sono gli adempimenti a valle del rilascio dell'autorizzazione unica ambientale, ma su questo ci torneremo più avanti. Il gestore invece è la persona fisica o giuridica che ha il potere decisionale per quanto riguarda l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e che è anche responsabile dell'applicazione della normativa sostanziale che è appunto quella data dal Codice dell'Ambiente. Qual è in breve la normativa di riferimento? Prima quella nazionale, naturalmente abbiamo il Decreto Legge, il cosiddetto semplifica Italia, 5 del 2012, che è stato poi convertito in legge 35 del 2012, il cui articolo 23 ha autorizzato il governo a emanare un regolamento che disciplini proprio l'autorizzazione unica ambientale. Secondo chiaramente, come ogni legge delega, questo articolo 23 conteneva dei principi e dei criteri direttivi, tra cui il fatto che l'autorizzazione sostituisce ogni atto di comunicazione, notifiche e autorizzazioni previsti dalla legge in materia ambientale. L'altro criterio, l'autorizzazione unica ambientale, l'AWA, deve essere rilasciato dall'unico ente, quindi qua troviamo già una prima importante distinzione tra il rilascio e l'adozione dell'AWA, poi lo vedremo più avanti, e il procedimento deve essere improntato naturalmente al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi, anche qua vedremo che cosa vuol dire, con riferimento sia alla dimensione dell'impresa che al settore di attività considerato. Quindi che cos'è alla fine l'AWA? È un provvedimento che deve essere rilasciato dal SUAP, che sostituisce fino a, non tutti naturalmente insieme, ma tendenzialmente fino a sette atti di o comunicazione o notifica o autorizzazione previsti dalla legge in materia ambientale, che prima l'impresa doveva chiedere separatamente a enti diversi. Sui vantaggi, questo è quello che trovate scritto un po' negli atti ufficiali, naturalmente se intervistate molti dei portatori di interesse, in particolare il mondo delle imprese, perché è un procedimento particolarmente complesso, molti si soffermano soprattutto sul secondo punto elenco, cioè la durata dell'autorizzazione che fino a 15 anni, anzi non fino a, è proprio 15 anni a partire dalla data di rilascio dell'AWA, che è sicuramente superiore a quella che riguarda le singole autorizzazioni. Non comporta l'introduzione di maggiori oneri alle imprese, questo anche qua sul territorio nazionale questa cosa è vera fino a un certo punto, perché nonostante vi sia nell'articolo 8 del DPR 59 un alto là, un po' come fatto anche nel DPR 160 del 2010, cioè non è possibile, si possono assoggettare a diritti naturalmente i procedimenti, gli endoprocedimenti di AWA, ma sempre nel limite di quanto il gestore pagava prima dell'introduzione dell'AWA stessa. Questo non sempre è stato rispettato, sono stati inseriti un po' a macchia di leopardo in Italia, invece oneri, istruttori che vanno al di là, che aggravano l'aspetto economico e finanziario a carico del gestore, ma ad ogni modo invece, poi dopo vedremo la normativa regionale piemontese cosa prevede in materia. Sulla base di quell'articolo 23 del DPR 5 del 2012 è stato emanato il DPR 59 del 2013, quindi come vi dicevo che è entrato in vigore nel giugno dello stesso anno, e che disciplina il campo di applicazione della procedura di AWA, quindi ripeto questo è l'aspetto fondamentale che dobbiamo considerare del DPR 59, e che si tratta di una normativa di carattere esclusivamente procedimentale, quindi non c'è nessun reale spostamento di competenze, se non, ripeto, la nuova competenza della società competente ad adottare il provvedimento di AWA acquisiti i pareri da parte dei soggetti competenti. E questo comporta delle conseguenze importanti anche in ordine, lo vedremo in una delle ultime slide, in ordine a cosa succede dopo il rilascio dell'AWA, quindi tutto l'aspetto relativo ai controlli, alle sanzioni, fino ad arrivare agli atti eventualmente di ritiro dell'AWA, quindi agli atti di annullamento e revoca dell'AWA stessa. Dopodiché un'altra, l'unica vera circolare del Ministero dell'Ambiente che è stata emanata sull'AWA, in pochi mesi dopo, la circolare 7 novembre 2013, questa 49.801, dove ci sono forniti tutta una serie di chiarimenti interpretativi sulla base delle prime richieste di interpretazione che erano arrivate dalle regioni e dalle autorità competenti un po' in tutta Italia. Dopodiché, sempre per chiudere con la normativa nazionale di riferimento, abbiamo un decreto, il DPCM del Dipartimento, in particolare portato avanti dal Dipartimento della Funzione Pubblica 8 maggio 2015, con cui è stato adottato il modello semplificato e unificato per la richiesta di AWA. E le regioni, così come ha fatto anche il Piemonte, poi dovevano adeguare i contenuti del modello alle norme regionali. E poi, infine, un aspetto molto importante, lo abbiamo già trattato in uno degli scorsi webinar, se ricordate, il decreto 127 del 2016, quello sulla conferenza dei servizi, che al titolo secondo prevede proprio delle norme di coordinamento, quindi modifica la procedura di conferenza dei servizi in specifiche norme speciali. E tra questo è stato modificato anche l'articolo 4 del DPR 59, che prevede appunto la conferenza dei servizi come modulo procedimentale per l'istruttore delle pratiche di AWA. Poi lo vedremo tra un attimo. Venendo invece, scusate la voce, venendo invece alla normativa regionale del Piemonte abbiamo due atti salienti, insomma, che mi sembrava utile riportare, quindi il decreto del Presidente dell'Aggiunta regionale 6 luglio 2015, quello che contiene il modello unico regionale per la richiesta di autorizzazione unica ambientale, dove si prevede appunto che ogni swap può optare per l'implementazione diretta di un proprio servizio di compilazione guidata, cosa che, come tutti sapete, non è facilissimo, insomma, crearsi un percorso guidato, quello che in verbo informatico viene chiamato il wizard, quindi un percorso guidato a compilazione successiva di un modello non è una cosa facilissima. In ogni modo, il swap che lo può fare, cioè, riesce a farlo, lo può fare, oppure, dice il decreto, è possibile avvalersi di un servizio digitale regionale già implementato sul portale Sistema Piemonte. Quello che è importante, ricorda il decreto del Presidente dell'Aggiunta regionale, è che ogni swap deve fornire le istruzioni sul proprio portale, indicando al gestore, che intende presentare domanda di AWA, che cosa, quale procedura deve porre in essere, quindi ci deve essere un indirizzamento al servizio telematico prescelto. Quindi il gestore che deve fare? Deve accedere al sito del swap e seguire le informazioni. Se il swap, questo come norma di chiusura, non avesse provveduto ad allestire il servizio per la presentazione dell'AWA o a garantire la necessaria informazione, la domanda può essere allora presentata in via, come dire, sussidiaria, la domanda di AWA attraverso il servizio digitale regionale del sistema Piemonte. Andiamo avanti. L'altra normativa che mi sembrava utile evidenziare in questa sede è il regolamento regionale numero 7 del 30 maggio del 2016, quindi dell'anno successivo che riguarda fondamentalmente due aspetti, la definizione di criteri per l'individuazione degli oneri istruttori, quindi che ne abbiamo parlato prima, ricordate, sempre nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 del DPR 59 del 2013, e poi le disposizioni in materia di scarichi di acqua e reflui urbane. Per quanto riguarda l'articolo 3, la determinazione degli oneri istruttori, la norma e il regolamento fa riferimento, intanto richiama correttamente il principio di non eccedenza previsto dall'articolo 8, che vuol dire non eccedenza? Vuol dire semplicemente quello che abbiamo detto prima, cioè è possibile stabilire degli oneri che però non devono essere superiori a quelli che il gestore pagava prima dell'entrata in vigore del DPR 59, quindi prima dell'entrata in vigore del procedimento di aula. Come si fa a determinare questi oneri? Attraverso un accordo che deve essere da stipulare nell'ambito della conferenza regionale dell'ambiente. L'articolo 4 invece prevede disposizioni importanti in materia di di scarichi di acqua e reflui urbane, che qui non tratteremo nel dettaglio naturalmente, semplicemente detta disposizione in materia di diverse tipologie di scarichi, quindi quelli provenienti da impianti di depurazione delle acque reflui urbane, scarichi di acqua e reflui urbane che derivano da reti di rilevante estensione, scarico dell'impianto di depurazione delle acque reflui urbane autorizzato nell'ambito di un'AIA, l'autorizzazione integrata ambientale, che non è di competenza del SUAP, ma che ci torna utile affrontare soprattutto per quanto riguarda, poi lo vedremo dopo, i casi di esclusione dell'AWA, quindi quando non si applica il procedimento di AWA. Un'altra norma importante che mi sembrava opportuna evidenziare del regolamento regionale 7 del 2016 è l'articolo 6 che contiene il raccordo tra l'AWA, quindi tra il procedimento unico di AWA ed altri procedimenti unici. Infatti ricorda la norma che i titoli abilitativi previsti dall'articolo 3 del 59 2013, che poi li tratteremo in una prossima slide, quindi tutti i 7 endoprocedimenti che sono ricompresi nel perimetro dell'AWA, laddove siano inerenti a progetti sottoposti anche alla fase di valutazione della procedura di via o all'articolo 12 del 387, il reddito legislativo 387 del 2003, che riguarda fondamentalmente impianti che producono energia elettrica da fonti rinnovabili. In questo caso, gli esiti di questi endoprocedimenti, i pareri, gli atti di assenso comunque denominati, sono rilasciati con gli effetti dell'AWA nell'ambito di quei procedimenti, quindi non devono essere rilasciati poi dal SUAP, come prevede in via generale il decreto 59, ma devono essere rilasciati sempre nell'ambito di un'AWA, ma quest'AWA opera all'interno di un macro procedimento più ampio che è appunto quello della via o quello dell'articolo 12 del reddito 387. Da questo punto di vista vi ricordo che naturalmente il regolamento regionale è del 2016, l'anno successivo nel 2017 con un altro decreto, il 104, decreto nazionale, è stato modificato l'articolo 27 bis del codice dell'ambiente ed è stato inserito, è stato introdotto un nuovo procedimento unico in materia di valutazione di impatto ambientale regionale che si chiama, un acronimo che, come dire, a volte gli acronimi hanno anche un loro perché, PAUR, provvedimento autorizzatorio unico regionale, insomma che è un procedimento di procedimenti molto molto complesso e molto che tiene dentro tutti gli atti di assenso comunque denominati necessari per la messa in esercizio di quel progetto, di quell'impianto e naturalmente se è coinvolto anche uno dei procedimenti di AWA, l'AWA deve essere rilasciata all'interno di questo procedimento unico di PAUR, ma naturalmente l'articolo 27 bis non è oggetto di questo webinar. Quindi arriviamo ai famosi sette endoprocedimenti che rientrano nel perimetro dell'AWA, quindi il gestore deve presentare domanda di AWA nel caso in cui, con le eccezioni e poi con le specificazioni che vedremo dopo, ma in linea generale, diciamo che quando l'impianto è soggetto al rilascio, alla formazione, al rinnovo, all'aggiornamento di almeno uno di questi titoli abilitativi, quindi l'autorizzazione agli scarichi, quelli previsti dagli articoli 124 e seguenti fondamentalmente del Codice dell'Ambiente, la comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, l'articolo 112, l'autorizzazione all'emissione in atmosfera in procedura ordinaria, questo è l'articolo 269 che abbiamo trattato anche, se vi ricordate, in un precedente webinar sulla conferenza ai servizi per dire che questo è l'unico caso in cui pacificamente non si applica il silenzio assenso in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione, quindi parliamo dell'autorizzazione alle emissioni in procedura ordinaria, che non va confusa invece con l'autorizzazione alle emissioni in via generale, che invece è prevista dall'articolo 272,1 e 2 del decreto 152. Ancora abbiamo la comunicazione o il nulla osta a seconda dei casi in materia di impatto acustico e qua la norma di riferimento non la ritroviamo nel Codice dell'Ambiente ma è la legge quadro sull'inquinamento acustico che è la 447 del 1995, ricordo brevemente che poi è stata ripresa anche come normativa di semplificazione da un DPR del 2011, il DPR 227, vi ricordo brevemente che la comunicazione si fa quando il tecnico competente in materia di impatto acustico a livello previsionale ritiene che quell'attività non determinerà il superamento dei limiti previsti dalla zonizzazione stabilita dal comune o da altre normative sono ordinate, mentre si chiederà nulla osta quando a livello previsionale appunto si invece si ritiene che verranno superati i limiti di emissione. Poi abbiamo ancora il sesto endoprocedimento, l'autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura, anche qui è un decreto del 92, il numero 99, e poi la comunicazione semplificata che riguarda gli impianti di recupero rifiuti, sia pericolosi che non pericolosi, articoli 214, 15 e 16 del codice dell'ambiente, che non va confusa in quanto procedura semplificata con l'autorizzazione, con la procedura ordinaria degli impianti che invece segue un suo procedimento unico, lo vedremo in una prossima slide, non è di competenza del SUAP, non rientra nell'AUA ed è un procedimento unico a parte che è dettato dall'articolo 208 invece del codice dell'ambiente. Qua nella successiva slide trovate le stesse cose che ho appena detto in maniera, ve l'ho voluta mettere così, in maniera un po' più chiara, forse più leggibile, e veniamo adesso ad un aspetto molto importante che ancora oggi, a distanza di quasi nove anni, mi fa discutere, scusate, e cioè l'ambito di applicazione dell'AUA, quindi quando si applica l'AUA, quando non si applica l'AUA. Il problema è dato da una, come dire, forse non chiarissima, come dire, esposizione della norma all'articolo 1 del regolamento del DPR 59 del 2013, perché se andate a leggere l'articolo 1 del 59, troviamo subito un criterio soggettivo per individuare quali sono i casi in cui un'impresa deve fare l'AUA. E si fa, si dice, l'AUA si applica alle categorie di impresa, di cui all'articolo 2 del decreto del ministro delle attività produttive, oggi sarebbe il MISE, all'epoca si chiamava MAP, ministro delle attività produttive, il 18 aprile 2005. Tradotto l'articolo 2, che magari chi di voi si occupa di finanziamento, avrà trovato, che riguarda anche tanti altri aspetti, riguarda la definizione di micro, piccola e media impresa. Quindi fondamentalmente fino al limite delle medie imprese, quindi quelle che hanno fino a 250 occupati e 50 milioni di fatturato anno, giusto per essere chiari. Quindi questo è un criterio squisitamente soggettivo, quindi le micro, piccole e medie imprese, che naturalmente hanno bisogno di uno o più dei titoli abilitativi che abbiamo appena visto, devono presentare domanda di AUA al SUAP. E vabbè, fin qui sembra tutto chiaro. Poi c'è questo nonché. Quindi l'AUA si applica a questi nonché agli impianti che non sono soggetti ad AIA, quindi alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale. Anche qua capite che c'è una, come dire, un aspetto, una modifica significativa. La circolare del Ministero dell'Ambiente del 2013, che prima ho citato, ha chiarito che cosa? Che questo criterio oggettivo, perché vedete, nonché agli impianti introduce un criterio oggettivo che non si riferisce alla specificità dell'impresa, ma all'impianto, quindi un criterio oggettivo. Quindi questo che vuol dire che indipendentemente dalla dimensione, se io come gestore ho un impianto che non è soggetto ad AIA, anche se sono una grande impresa, devo fare domanda di AUA. Quello che invece è ancora il dubbio che fa discutere, che ha creato purtroppo conseguenze a volte anche di carattere giudiziario, un po' macchia di leopardo in Italia, è il problema delle attività cosiddette di pubblico servizio. Quindi quelle, per esempio, gestite da enti pubblici, quali possono essere impianti di trattamento dell'acqua e refli urbane, gli ospedali, le isole ecologiche, gli impianti di cremazione e quant'altro. Quindi come vedete, roba importante. Quando questi enti, che possono anche non essere enti pubblici, ma società partecipate da enti pubblici, quindi hanno anche lo scheletro formale di S.P.A. o S.A.P.A. S.R.L. eccetera, quando devono acquisire almeno uno dei titoli abilitativi, di cui è l'articolo 3,1 del DPR 59, devono fare domanda di Aua o devono seguire la procedura ordinaria, quella diciamo così, ante 2013? E questa non è una risposta banale da dare. Noi per esempio come Formez, quando abbiamo collaborato con le regioni per scrivere le linee guida, lo abbiamo fatto ad esempio in Basilicata, in Campania e da altre parti, abbiamo sempre cercato di, preso atto dell'indirizzo che si manifestava in regione, di scriverlo chiaramente, perché questo è un aspetto importante. Quindi la decisione può essere, io ritengo, legittimamente di entrambi i tipi. Quindi si può decidere che l'impianto di pubblico servizio può andare dentro o fuori l'Aua. L'importante è chiarirlo perché un po' in tutta Italia ci sono sempre grosse dispute al riguardo. Quello che sicuramente è fuori dall'Aua, quindi parliamo adesso dei casi di esclusione, non si può presentare domanda di Aua per quali? Per gli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, che sono disciplinati da un allegato, l'allegato ottavo del codice dell'ambiente, i progetti sottoposti a via, laddove la normativa statale o regionale disponga che questa valutazione comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso in materia ambientale, e questo voglio dire oggi con l'articolo 27 bis nella nuova formulazione testuale. Quindi c'è già un procedimento che prevede che questo macro procedimento di Power, ripeto, provvedimento autorizzatore unico regionale, assorbe tutti gli atti, non solo in materia ambientale, ma anche al di fuori del perimetro ambientale. Quindi questa è l'altra causa di esclusione. Poi abbiamo impianti la cui autorizzazione è già regolamentata da un procedimento unico, già un procedimento che ha una sua connotazione di specialità e unicità. Quali sono questi procedimenti? Quali sono questi impianti? Quindi per i quali anche qui non si applica l'Aua. Ma sicuramente il procedimento, lo abbiamo citato prima, è il procedimento unico per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, quelli previsti dal 208 del Codice dell'Ambiente. Procedimento di autorizzazione unica, e qua l'abbiamo visto, alla costruzione e all'esercizio degli impianti, l'articolo 12 del 387 del 2003. Qui appunto la Regione Piemonte ha detto qualcosa di parziale, non di diverso, ma ha integrato questa esclusione dicendo l'Aua si forma, ma si forma soltanto all'interno del più vasto procedimento di autorizzazione finalizzato al rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di questi impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile. Quindi si rilascia, l'autorità competente adotta l'Aua, ma in seno al più ampio procedimento previsto dall'articolo 12. Non si applica inoltre l'Aua agli interventi, al procedimento autorizzativo per gli interventi di bonifica, articolo 242 sempre del Codice dell'Ambiente, e poi ad altri casi di esclusione previsti dal DPR 160. Allora, prima di entrare poi nello specifico del procedimento, giusto per brevità, trattiamo alcune, come dire, alcuni aspetti che riguardano il, che devo dire la verità, erano soprattutto importanti nei primi anni, subito dopo l'entrata in vigore della nuova procedura. Adesso molte singole autorizzazioni sono scadute, e quindi già c'è, diciamo così, l'Aua per quasi tutti gli impianti. Ad ogni modo, ne parliamo giusto per una questione di completezza, e cioè, per il gestore di un impianto, la richiesta di Aua, al posto dei singoli titoli abilitativi, è facoltativa o è obbligatoria? Allora, qui trovate sotto il titolo in rosso, questa sorta di, come dire, di testo ricopiato, è proprio un passaggio della circolare del Ministero dell'Ambiente, quella del 7 novembre 2013. E cioè, dice il Ministero, l'effetto sostitutivo ricollegato al rilascio dell'Aua, che cosa prevede? Rende obbligatoria la sua richiesta, pena la frustrazione delle finalità di semplificazione dell'intervento regolatorio. Quindi l'Aua non è una facoltà, l'Aua è un obbligo, che ha soltanto due eccezioni, che vediamo subito. La prima eccezione è prevista nell'articolo 3,3 del decreto 59. L'articolo 3,3 del decreto 59 prevede che il gestore può decidere di non avvalersi dell'Aua, può decidere, ma può anche decidere quindi di avvalersi, quindi è una facoltà, non è un obbligo, ove l'impianto sia soggetto esclusivamente o a comunicazione o ad autorizzazione generale alle emissioni. Ricordate, in una slide precedente abbiamo visto che l'autorizzazione generale alle emissioni è quella prevista dall'articolo 272 del Codice dell'Ambiente. La comunicazione può essere la comunicazione, che so, per esempio, la comunicazione di impatto acustico, quindi quella prevista dall'articolo 8 della legge quadro sull'impatto acustico quando a livello previsionale non si ritenga che i limiti di zonizzazione, i limiti acustici verranno superati. Quindi quando ho soltanto comunicazioni o autorizzazione generale alle emissioni, posso decidere di avvalermi dell'Aua o posso anche decidere di fare i singoli endoprocedimenti. L'altra grande eccezione, invece, riguarda l'articolo 7,1 che riguarda anche qua le autorizzazioni generali alle emissioni, ma qua si riferisce all'adesione. Quindi l'articolo 272 del Codice dell'Ambiente, il comma 2, prevede che il gestore possa aderire a un'autorizzazione generale, alle emissioni già formata in via generale dall'autorità competente. Quindi io come gestore aderisco col mio impianto a questa autorizzazione generale anche in questo caso, nel caso in cui l'impianto è assoggettato ad altre autorizzazioni ricomprese nell'Aua. Quindi anche se io comunque devo acquisire un'autorizzazione allo scarico, un'autorizzazione di altro tipo, ma ho la necessità di aderire a un'autorizzazione generale, ai sensi dell'articolo 272 del Codice dell'Ambiente, posso aderire senza dover presentare domanda di Aua. Queste sono le due eccezioni. Un altro aspetto su cui si sofferma la circolare del Ministero dell'Ambiente che aveva creato scompiglio negli operatori a partire dalle autorità competenti e dalle regioni, riguardava questa formulazione non chiarissima dell'articolo 10,2. Cosa dice l'articolo 10,2 del DPR 59? L'autorizzazione unica ambientale può essere richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito. Allora molti hanno chiesto, ma che vuol dire può? Vuol dire che quindi l'Aua non è un obbligo, è una facoltà. Il Ministero invece ha ricordato, ha interpretato più che ha ricordato, che a meno che non ci troviamo in una delle due deroghe di qui sopra, quindi articolo 3,3 e articolo 7,1 che abbiamo appena visto, per il resto quel può non vuol dire assolutamente che l'Aua sia una facoltà, è sempre un obbligo. L'articolo 10,2, quello che è trovato in grassetto è proprio il passaggio del Ministero, si interpreta nel senso che la richiesta di Aua è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi previsti dall'articolo 3,1, a meno che non ci siano le due deroghe di cui abbiamo appena parlato. Quindi l'Aua va sempre richiesta dal gestore quando si tratta di un nuovo stabilimento, una nuova attività, un nuovo impianto, prima della costruzione dell'esercizio oppure in caso di trasferimento, tranne le due famose eccezioni di cui abbiamo già parlato. Se abbiamo un impianto esistente, esistente naturalmente, il Ministero si occupava della data, dell'entrata in vigore del regolamento, quindi il 13 giugno 2013, quando abbiamo un impianto esistente, quindi quando devo chiedere l'Aua per un impianto esistente? Quando scade uno dei titoli previsti dell'articolo 3, quindi uno dei sette endoprocedimenti, ma in particolare quali? Quelli che hanno una procedura autorizzatoria, quindi l'autorizzazione agli scarichi, di cui è la lettera A, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, di cui è la lettera C, l'articolo 269 del codice dell'ambiente, l'autorizzazione all'utilizzo dei fanghi. Questi sono sicuramente i tre filoni endoprocedimentali per i quali è sicuro che occorra chiedere l'Aua. Aggiungo naturalmente l'autorizzazione è nulla osta di impatto acustico nel caso in cui è l'articolo 8 della legge quadro, nel caso in cui il tecnico competente asseveri che a livello previsionale verranno superati i limiti previsti dalla zonizzazione acustica del comune. Quindi o quando scade un titolo autorizzatorio oppure quando viene a scadere una comunicazione, quindi scade una comunicazione che so di impatto acustico di altro tipo e l'attività è soggetta anche a titoli abilitativi di carattere autorizzatorio. Perché qua ci troviamo in un caso che non rientra nelle eccezioni. Infatti nel grassetto, che ancora una volta è il testo della circolare, trovate quanto appena detto. Cioè se abbiamo un impianto che è soggetto cumulativamente, quindi insieme, sia a comunicazioni che ad autorizzazioni di settore, in questo caso non rientra nelle eccezioni, le eccezioni quelle che abbiamo visto prima per le quali non occorre l'Aua. Quindi il ministero dice che in questi casi alla scadenza della prima comunicazione occorra, quindi sia obbligatorio, presentare istanza di Aua. Per il semplice motivo che non ci troviamo in una di quelle eccezioni. Quindi mi scade una comunicazione, ma il mio impianto è soggetto anche che è soggetto ad altre autorizzazioni, in quel caso devo fare direttamente domanda di Aua. Arrivata l'unica eccezione è se l'impianto è soggetto a sole comunicazioni, oppure se devo aderire a un'autorizzazione di carattere generale già formata dall'autorità competente. Queste sono le due eccezioni previste dal decreto 59. Ok, e quindi questo l'abbiamo già visto. Un altro aspetto importante, su cui si sofferma anche la circolare del 7 novembre 2013, il termine entro il quale va presentata la domanda di Aua. La prima domanda di Aua deve essere presentata nel termine indicato dalle norme di settore, dalle singole norme di settore, oppure quando scade il primo titolo abilitativo sostituito dall'Aua stessa. L'articolo 10,2 si ricorda il Ministero non è che offre indicazioni esaustive al riguardo, fa riferimento, dice, alla scadenza del primo titolo abilitativo. Quindi non indica un termine apposito e quindi lascia aperto il problema della continuazione dell'attività. Perché? Perché se non mi viene data risposta, se non mi viene rilasciata l'Aua prima che mi scadano i titoli abilitativi, io che cosa faccio al mio impianto? E invece le singole norme di settore che disciplinano le autorizzazioni appunto settoriali prevedono la continuazione a patto che la domanda di rinnovo sia stata fatta entro una determinata tempistica. Quindi nel grassetto della circolare ministeriale ci viene ricordato che appare utile, oltre che necessitato dall'interpretazione, rispettare i termini previsti dalla disciplina di settore del titolo in scadenza per poter beneficiare della possibilità di continuare l'attività anche in caso di mancata risposta nei termini di legge sulla richiesta di primo rilascio dell'Aua. Quindi se mi scade un titolo, se so che mi sta per scadere un titolo e la norma di settore mi dice che se presento la domanda di rinnovo, in questo caso di Aua, entro la tempistica prevista da quella norma di settore, io posso tranquillamente portare avanti il mio impianto anche se alla scadenza poi del singolo titolo abilitativo l'Aua non mi sia stata ancora rilasciata. Questo è molto importante sempre considerarlo. Allora, veniamo invece adesso all'aspetto più propriamente procedurale. Allora, la domanda deve essere presentata naturalmente dal gestore dell'impianto, dal gestore dell'attività al SUAP del comune competente in via telematica secondo le modalità previste dal sistema Piemonte o dalla piattaforma camerale o dal sistema previsto naturalmente dal comune. È un modello che deve essere firmato in genere in formato firmato digitalmente, ma sono validi anche altri formati legalmente riconosciuti. e l'allegato tecnico che peraltro adesso come abbiamo visto in un precedente webinar è stato cambiato, ma insomma prevede un formato zip. L'importante è che nel rispetto degli obblighi di trasparenza il SUAP metta a disposizione del gestore tutte le informazioni sulla documentazione da presentare. Questo lo troviamo per la verità non soltanto, non tanto forse a volte sui siti di SUAP, ma anche sui siti delle singole autorità competenti. Cosa deve fare il SUAP? Questa è la, come dire, la vexata question che sempre, no, riguarda i rapporti tra il SUAP, le autorità competenti e i soggetti competenti. Che deve fare il SUAP? Allora, il SUAP è quello che non deve fare, e questo lo dico da ex responsabile SUAP, insomma, perché ci sono trovato anch'io a Napoli, insomma, a dover gestire tante pratiche di AWA e quindi a interfacciarmi con autorità e soggetti competenti. Quello che non dobbiamo fare è ricevere il ricevuto da un'istanza di AWA, premere un tasto, io esemplifico, dire premere il tasto in ultra e girarlo all'autorità e soggetti competenti. Noi, alcune verifiche formali, formali, dobbiamo farle. Dobbiamo verificare che i file siano del prescritto formato a PDFA firmate digitalmente, a meno che i singoli sistemi digitali non prevedano diversamenti. Dobbiamo verificare che ci sia la completezza della singola documentazione, che i modelli siano compilati. Noi non dobbiamo, come in qualsiasi pratica su AWA, non è che dobbiamo entrare nel merito e nello specifico di valutazioni tecniche che non ci riguardano e per le quali probabilmente non abbiamo la preparazione, ma quello che dobbiamo verificare è che i modelli siano compilati, che soprattutto vi siano, al di là dei modelli, vi siano gli elenchi allegati, vi siano i documenti riportati nell'elenco allegati del modello unico. Questa è una cosa fondamentale. Inoltre, last but not least, come dicono gli inglesi, che sia avvenuto il pagamento dei diritti di istruttore. Questo è importante perché sapete che è la prima cosa che si va a verificare da parte degli enti terzi e il pagamento dei diritti di istruttore. E inoltre, essendo una domanda quindi di autorizzazione, perché l'AWA è un'autorizzazione, che sia pagata l'imposta di bollo, che oggi, ne abbiamo parlato in un precedente webinar, può essere assolta in maniera virtuale attraverso il sistema di pago al piano. Una volta verificata la completezza formale della domanda, il responsabile SUAP che fa comunica l'avvio del procedimento al richiedente. La comunicazione dell'avvio del procedimento è unica e la deve fare soltanto il SUAP e deve contenere che cosa? Le informazioni previste dell'articolo 8 della 241. Allora, faccio un inciso, quindi il contenuto della comunicazione la potete leggere, è quello previsto appunto dal testo vigente dell'articolo 8, quindi non c'è gran chieda a commentare. Quello che è importante è appunto ricordarci che il canale di comunicazione come in qualunque pratica SUAP dovrebbe avvenire soltanto esclusivamente tramite il SUAP, altrimenti si perde quel governo del sistema del procedimento unico che poi può creare grossi problemi nella gestione della pratica. Quindi anche quando vedremo la fase di integrazione documentale sono tutte fasi che devono essere veicolate al gestore attraverso dovrebbero essere veicolate al gestore attraverso il SUAP. Veniamo appunto all'ipotesi di sospensione dei termini. il DPR 59 prevede che dopo la verifica formale naturalmente possano essere fatte come in qualsiasi pratica le integrazioni documentali che devono essere chieste entro i 30 giorni. Quindi questo è quello che prevede in via generale in particolare l'articolo 4 del DPR 59 del 2013. Poi una volta formulata la richiesta di integrazione documentale nei successivi 30 giorni il gestore deve presentare le integrazioni a meno che non faccia in questo lasso di tempo una motivata richiesta di proroga perché a causa della complessità della documentazione che gli è stato chiesto di integrare. Vi ricordo che come prevede il DPR 59 in maniera speculare rispetto a quanto prevede il il DPR 160 del 2010 come prevede appunto dei corsi 30 giorni l'istanza si intende correttamente presentata quindi se vogliamo evitare problemi di ordine vario con il gestore è sempre bene buona norma presentare le richieste di integrazione entro i 30 giorni della presentazione della pratica. Quanto supera però quindi questo lasso di tempo di 30 giorni vale soltanto nei casi in cui non si procede in conferenza dei servizi da questo punto di vista c'è stata una fac interessante da parte della da parte del dipartimento della funzione pubblica la fac numero 51 che potete trovare pubblicata sul sito del dipartimento che dice la disciplina della conferenza dei servizi si coordina con l'articolo 4 del 59 in virtù del rinvio espresso fatto dal DPR 160 del 2010 all'articolo 7 per cui il termine di 30 giorni previsto dal comma 5 dell'articolo 4 per poter integrare la documentazione si può ritenere superato dal termine indicato dagli articoli 14 e seguenti della 241 che è di 15 giorni quindi questo tradotto vuol dire che se io sono in una fase di conferenza dei servizi si applica il termine ordinario di 15 giorni e non di 30 che è previsto dall'articolo 14 bis in particolare della 241 quindi questo è quello che è previsto per quanto riguarda l'integrazione documentale questa slide non dice molto di diverso quindi a seguito di esito positivo della verifica formale il SUAP trasmette la pratica all'autorità competente e agli SCA quindi ai soggetti competenti l'autorità competente una volta riscontrata la necessità di perfezionare la documentazione lo comunica al SUAP invitando il SUAP appunto a fare richieste di integrazione documentale giusto un aspetto ne abbiamo già parlato l'altro giorno forse ve ne avrà parlato sicuramente anche meglio l'ingegnere Pugioni in un precedente webinar ricordiamoci sempre la differenza quando andiamo a come dire a rilevare criticità nel procedimento di distinguere bene sempre tra improcedibilità irricevibilità e inammissibilità l'improcedibilità questo ad esempio l'abbiamo l'abbiamo fatto scrivere come gruppo di lavoro Formez nelle linee guida a cui abbiamo collaborato regionale a cui abbiamo collaborato l'improcedibilità è qualcosa di esterno al procedimento quindi è presente una ragione ostativa all'avvio del procedimento perché non è stata compiuta un'attività esterna o un'azione obbligatoria richiesta dalla legge nello specifico dell'Aua è improcedibile la domanda quando non si è proceduto alla verifica di assoggettabilità nei casi ovviamente in cui ciò si è previsto imposta dall'articolo 20 del codice dell'ambiente l'ente non abbia ancora valutato di non assoggettare l'avvio ai relativi progetti questa è l'improcedibilità quindi manca un presupposto per poter dichiarare procedibile la domanda l'irricevibilità invece è proprio qualcosa di diverso che riguarda proprio l'incompletezza della domanda che è tale dal punto di vista formale che non riusciamo proprio ad avviare l'istruttura quindi completa legittimità di un procedimento un messaggio che proviene da una nel caso di PEC nel caso in cui non abbiamo una piattaforma da una casella di posta elettronica ordinaria e quant'altro l'inammissibilità è un altro istituto ancora e riguarda un difetto nella qualità personale nella qualificazione giuridica del proponente quindi ad esempio è inammissibile la domanda di AWA presentata per un impianto assoggettato assoggettato ad AWA quindi questi sono aspetti che dobbiamo sempre tenere presente quando distinguiamo fra inammissibilità improcedibilità e ricevibilità quindi per non fare confusione tra istituti che possono sembrare simili ma simili non sono allora veniamo adesso alla casistica dei procedimenti AWA ve li ho riassunti in questa slide sono fondamentalmente di tre tipi a seconda della tipologia dei titoli sostituiti e delle procedure amministrative necessarie per il rilascio dei sette endoprocedimenti le tre casistiche sono le prime due riguardano i casi in cui non usciamo dal perimetro dell'AWA quindi io come gestore ho bisogno soltanto di uno o più dei sette endoprocedimenti previsti dall'articolo 3 la casistica A riguarda i casi in cui tutti i procedimenti di cui ho bisogno tutti gli atti di assenso di cui ho bisogno per dire meglio prevedono termini procedimentali di durata pari o inferiore a 90 giorni il secondo caso sempre non usciamo dal perimetro dell'AWA ma almeno uno degli atti di assenso richiede come nel caso ad esempio dell'autorizzazione all'emissione in atmosfera in via ordinaria di cui ad articolo 269 del codice dell'ambiente richiede un termine maggiore in questo caso 120 giorni che possono arrivare a 150 il terzo caso invece è il caso in cui usciamo dal perimetro esclusivo dell'AWA e quindi io come gestore oltre a uno o più degli atti di assenso previsti dell'articolo 3 ho bisogno di altri atti di assenso quindi che nulla hanno a che fare con l'AWA prevenzione di incendi sovrintendenza permesso di costruire quello che sia quindi in tutti questi casi idoneità igienico-sanitaria in questi casi dobbiamo operare in maniera diversa nel modo che vedremo io ho messo in rosso naturalmente i commi di riferimento dell'articolo 4 allora veniamo alla prima casistica la prima casistica quindi come dicevamo abbiamo procedimenti di durata inferiore o pari a 90 giorni in cui è necessario acquisire soltanto l'AWA in questo caso non si tiene la conferenza dei servizi non è prevista come diciamo non c'è un automatismo in questi casi in questi casi che cosa succede ogni ufficio competente trasmette l'esito dell'istruttoria con criteri e modalità di installazione gestione prescrizione eccetera all'autorità competente quindi alla provincia o alla città metropolitana la città metropolitana o la provincia adotta l'AWA e la trasmette al SUAP il quale SUAP rilascia con un proprio provvedimento l'autorizzazione al gestore naturalmente se scattano i casi di attivazione della conferenza dei servizi che abbiamo visto in un precedente webinar quindi quando ho bisogno di almeno due atti di assenso da parte di due soggetti competenti in materia ambientale diversi allora a quel punto scatta l'obbligatorietà della conferenza dei servizi che in questo caso perché non usciamo dal perimetro ambientale comma 7 indirà ed eventualmente convocherà non il SUAP ma direttamente l'autorità competente quindi la provincia o città metropolitana la durata della conferenza in questi casi è pari a 90 giorni ma ripeto è soltanto una ipotesi può anche non verificarsi la necessità di conferenza di servizi il secondo caso è quando invece il procedimento è di durata superiore a 90 giorni anche qua non usciamo dal perimetro dell'agua in questo caso quindi quando almeno uno dei termini di conclusione del procedimento per il rilascio di un atto di assenso è superiore a 90 giorni l'autorità competente indice nei 30 giorni ed eventualmente convoca la conferenza dei servizi di quegli articoli 14 e seguenti della 241 coinvolgendo anche i soggetti competenti in materia ambientale e gli eventuali portatori di interesse la richiesta di integrazione in questo caso si fa come sempre accade in questi casi non prima ma nell'ambito della conferenza dei servizi questo è un aspetto che dobbiamo sempre ricordare quindi la richiesta di integrazione non è mai un qualcosa di esterno e di antecedente ma si va sempre in sede di conferenza sulla base degli esiti della conferenza l'autorità competente adotta l'Aua e la trasmette al SUAP che poi la rilascia al richiedente in questi casi in cui uno degli endoprocedimenti ha termini superiori a 90 giorni e la conferenza può durare fino a 120 giorni che salgono a 150 in caso di richiesta di integrazione questo lo dice testualmente l'articolo 4,5 il terzo caso invece ne abbiamo parlato prima è quello in cui usciamo dal perimetro dell'Aua e quindi ho bisogno come gestore di altri titoli oltre a quelli strettamente elencati dall'articolo 3 del 59 in questi casi nei 30 giorni della data di presentazione il SUAP attiva il procedimento unico quindi è un vero e proprio procedimento unico quello previsto dall'articolo 7 del 160 ed è lui il SUAP che indice ed eventualmente convoca la conferenza nella quale deve invitare chi l'autorità competente i soggetti competenti naturalmente tutti gli altri enti pubblici o società private che gestiscono pubblici servizi che sono interessati quindi in ipotesi l'ufficio tecnico del comune la sovrintendenza l'ASL e quant'altro in esito alla conferenza che cosa succede? l'autorità competente adotta l'Aua raccolti in parere degli sky e a tal proposito l'articolo 4 conferisce all'autorità competente un potere di coordinamento dei soggetti competenti anche insieme alla conferenza indetta e gestita dal SUAP non mantiene un suo potere di coordinamento nei confronti dei soggetti competenti l'Aua adottata verrà riportata nel verbale finale dello svolgimento della conferenza e quindi verrà richiamata nel provvedimento unico finale adottato dal SUAP quindi qual è la vera differenza? è che in tutti i casi il SUAP rilascia sempre il provvedimento di Aua solo che qui sarà un vero uso parole a tecniche volutamente qui sarà un vero provvedimento unico nel senso che ci sarà l'Aua insieme ad altri atti di assenso insieme al permesso di costruire all'autorizzazione paesaggistica e a quello che insomma una scia di prevenzione di incendi e a quello che volete voi negli altri casi invece il SUAP che pure deve rilasciare un proprio provvedimento naturalmente manderà un provvedimento che ricalcherà nei fatti nella sostanza interamente il provvedimento già adottato dall'autorità competente quindi qui si discosta perché c'è un qualcosa in più lì invece è un atto che diciamo non si discosta dall'Aua adottato dall'autorità competente ok un altro aspetto molto molto importante riguarda il silenzio assenso applicato al procedimento di Aua questa è una questione molto molto dibattuta quali sono tra i titoli abilitativi compresi nell'Aua quelli per i quali la normativa europea prevede l'obbligo di un atto formale espresso e quelli per i quali invece è possibile andare in silenzio assenso allora l'unico aspetto che è certo nel senso del sì che occorre l'autorizzazione espressa e non è suscettibile di silenzio assenso il rilascio dell'autorizzazione di quell'articolo 269 codice dell'ambiente quindi l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in via ordinaria perché la prevede testualmente una direttiva europea mentre tutto ciò che riguarda le comunicazioni e le autorizzazioni per effluenti di allevamento di impatto acustico l'autorizzazione di carattere generale essenzio del 272 questi è pacifico che non sono compresi naturalmente essendo comunicazioni tra quelli per i quali ho autorizzazione di carattere generale tra quelli per cui la normativa europea prevede l'obbligo di rilasciare un'autorizzazione espressa quindi qui non ci sono problemi invece per quanto riguarda il nulla osta di impatto acustico e l'utilizzo di fanghi da depurazione in agricoltura che sono due procedimenti autorizzatori le direttive europee non sembrano usiamo sempre una certa cautela perché ripeto non esiste una casistica ufficiale ma le direttive europee non sembrano prevedere una forma autorizzativa e quindi diciamo così un po' in tutta Italia si considerano autorizzazioni suscettibili di silenzio assenso quella che invece crea grossi grossi problemi dubbi e contrasti è la materia degli scarichi delle acque reflue quindi l'articolo 124 del codice dell'ambiente seguenti perché la direttiva europea di riferimento è sempre quella del 91 la numero 271 che all'articolo 11 dice gli stati membri provvedono affinché eccetera eccetera lo scarico di acque reflue sia preventivamente subordinato a regolamentazioni e o ad autorizzazioni specifiche da parte dell'autorità competente quindi davanti a questa davanti a questa lezione un po' come dire un po' ambigua non chiarissima vi assicuro che ci sono in giro per l'Italia prassi operative divergenti proprio sulla materia degli scarichi delle acque reflue però insomma poi magari se avete un contributo voi che mi potete dare anche in chat va benissimo mi scrivete come si regolano i soggetti competenti dell'autorità competente in Piemonte va benissimo così apprendo io da voi la durata abbiamo detto che è sempre di 15 anni per quanto riguarda invece il rilascio la formazione e l'aggiornamento del titolo abbiamo detto che la richiesta di AWA deve essere prodotta nei termini stabiliti dalle discipline settoriali dei titoli abilitativi in scadenza ad esempio per quanto riguarda l'autorizzazione allo scarico di acqua reflue non industriali oppure per quelle per l'autorizzazione all'emissione dell'atmosfera il tempo è un anno prima questo è importante perché se presentiamo la domanda di AWA un anno prima questo ci dà la possibilità di poter continuare a esercitare l'impianto anche in mancanza di risposta da parte degli enti competenti in ogni caso questo è importante l'AWA deve comprendere sempre tutte le autorizzazioni e i titoli richiesti per l'esercizio dell'impianto quindi quando scade il primo titolo ma ripeto questa è una cosa che valiva soprattutto negli anni precedenti ma in ogni modo non si può mai dire alla scadenza del primo titolo il gestore quando chiede l'AWA deve presentare intanto la documentazione necessaria per poter istruire quel procedimento del titolo in scadenza ma deve anche indicare tutti i titoli anche quelli validi di quel possesso naturalmente in molti casi questa è una cosa che anche noi come Formez sollecitiamo nella redazione delle linee guida regionali quando le regioni ce lo chiedono prevediamo che per non aggravare il procedimento sia nei confronti delle imprese ma anche degli stessi soggetti competenti e autorità competenti suggeriamo appunto che nei casi in cui le condizioni di esercizio o le informazioni contenute nei singoli titoli abilitativi preesistenti non siano mutati l'autorità competente fa riferimento alla documentazione già in possesso in possesso o in possesso di uno o più degli altri soggetti competenti cioè si fa presentare da parte del gestore una semplice dichiarazione di nulla mutato diciamo così e naturalmente fatti salvi debiti controlli che possono essere sia di tipo documentale sia in loco per i titoli non scaduti questo viene considerato questo viene considerato sufficiente ancora un aspetto importante relativo alla voltura quindi anche qua diciamo non c'è una univoca non c'è un'univoca individuazione del regime abilitativo in Italia alcune regioni propendono addirittura per un regime autorizzatore con silenzio assenso altre con una semplice comunicazione con appunto la dichiarazione di invarianza quindi di nulla mutato rispetto all'agua già rilasciata in questi casi il SUAP trasmette la pratica all'autorità competente la quale adotterà ricorrendo nelle condizioni il provvedimento di voltura che infine viene rilasciato dal SUAP altre regioni invece prevedono che la voltura viene rilasciata direttamente dall'autorità competente al gestore e il SUAP ne viene notiziato solo in conoscenza insomma in realtà sono sempre abbastanza eterogenee nel nostro paese poi abbiamo per quanto riguarda il rinnovo qua parliamo di rinnovo dell'agua quindi non dei singoli titoli abilitativi abbiamo già un'agua quindi la domanda di rinnovo deve essere presentata sei mesi prima della scadenza corredata dell'apposita documentazione anche qua è previsto che è possibile fare riferimento alla documentazione già in possesso dell'autorità competente e nell'emore del rilascio della nuova autorizzazione continua ad avere efficacia l'autorizzazione esistente fatta salva diversa previsione contenuta nella specifica normativa di settore che vuol dire fatta salva diversa previsione vuol dire per esempio che se l'istanza di rinnovo riguarda scarichi che contengono sostanze nocive articolo 108 del codice dell'ambiente l'effetto di proroga dell'autorizzazione anche dopo la scadenza dell'autorizzazione non si può produrre perché questo non è previsto dalla normativa di settore quindi bisogna sempre fare verificare se la normativa di settore prevede la possibilità di poter continuare a esercitare dopo la scadenza del titolo abilitativo se invece la richiesta di rinnovo la facciamo dopo i sei mesi quindi due o tre mesi prima della scadenza l'agua comunque sarà vigente fino alla sua naturale scadenza dopodiché a quel punto il procedimento si concluderà con il rilascio di una nuova di una nuova agua un altro aspetto importante che volevo segnalarvi ecco all'articolo 2 del 59 c'è un'importante differenza tra modifica e modifica sostanziale la modifica che è un aspetto gravido di conseguenze in termini di regime abilitativo quindi se si fa la comunicazione se si fa l'autorizzazione la modifica è ogni variazione a un progetto già autorizzato progetto realizzato o progetto in fase di realizzazione che possa produrre effetti sull'ambiente mentre la modifica sostanziale è quella che fatto salvo quanto sopra produce effetti negativi e significativi sull'ambiente naturalmente questo viene debitamente asseverato da un tecnico competente nel caso qual è la differenza è che se la modifica non è una semplice modifica lettera F ma è una modifica sostanziale lettera G del comma 1 dell'articolo 2 e quindi produce effetti negativi e significativi il gestore deve presentare una nuova domanda di AWA ai sensi dell'articolo 4 naturalmente può ben darsi il caso come spesso accade che l'autorità competente riceve una comunicazione di modifica ma invece ritiene che non si tratti di una semplice modifica ma di una modifica sostanziale in questo caso nei 30 giorni successivi alla presentazione della comunicazione ordina al gestore di presentare una domanda di autorizzazione e la modifica che era già stata comunicata non può essere eseguita fino al rilascio della nuova autorizzazione quindi di fatto l'autorità competente blocca il processo di comunicazione relativo alla modifica se l'autorità competente non si esprime nei 60 giorni dalla comunicazione invece si applica il silenzio e assenso fermo restando naturalmente la possibilità di intervenire anche esposto nel caso in cui l'autorità competente rilevi che si tratti in realtà di modifica sostanziale se necessario parliamo naturalmente di comunicazione di modifica non sostanziale l'autorità competente può provvedere ad aggiornare l'autorizzazione e questo aggiornamento non incide sulla durata dell'autorizzazione quindi non è che l'autorizzazione scade in un momento successivo scadrà sempre nei corsi 15 anni dal rilascio del titolo originario un altro un aspetto fondamentale con questo chiudo rispondo a qualche vostro a qualche vostro quesito che è una cosa che non trovate assolutamente nel 59 abbiamo detto che il decreto 59 è un decreto di carattere esclusivamente procedimentale quindi nulla trovate per tutto quello che riguarda la fase successiva i controlli le diffide che eventualmente possono essere poste in essere fino ad arrivare ai provvedimenti di revoca annullamento questi non le trovate anche qua ancora una volta rileviamo delle prassi regionali differenti la maggior parte delle regioni sostiene che appunto essendo il 59 un DPR procedimentale non sostanziale e quindi non c'è un trasferimento di competenza quelli che sono i controlli le diffide le sanzioni che sono previste in maniera analitica dalla normativa di settore verticale in primis il codice dell'ambiente il periodo legislativo 102 del 2006 vengono espletati dagli stessi soggetti che già lo facevano prima quindi cambia soltanto la fase di autorizzazione ma una volta rilasciata l'AUA poi torna la competenza in capo ai soggetti che già l'avevano prima dell'AUA e individuati dalla norma verticale di settore quindi per quanto riguarda gli accessi controlli verbali le sanzioni e quant'altro altre regioni diciamo una minoranza ritiene invece che come l'autorità competente è competente scusate il bisticcio ad adottare l'AUA così deve effettuare anche le attività di qui sopra per particolari casi di diffide e sanzioni ad ogni modo la regola che quasi tutte le regioni seguono è proprio questa quindi una volta rilasciata l'AUA poi si torna agli assetti di competenze previsti dalle singole norme dalle singole norme di settore per quanto riguarda in particolare la revoca e l'annullamento possiamo fare riferimento anche avvalendoci di alcune sentenze come quella che trovate in questa slide del Tar Campania di Napoli ai principi generali del diritto amministrativo e cioè il procedimento finalizzato alla revoca o all'annullamento dell'AUA deve essere sempre comunicato salvo i casi previsti dalla legge questo è un aspetto ne abbiamo parlato in un precedente webinar è sempre buona norma quando si avvia un procedimento soprattutto se di secondo grado e quindi che porta a un provvedimento come dire restrittivo per l'interessato è sempre bene comunicarlo soprattutto in esito al procedimento di revoca o annullamento il provvedimento mi avete perso non vedo più la mia immagine ok ora si non che fosse una grave perdita ad ogni modo in esito al procedimento di revoca o di annullamento il provvedimento viene rispettivamente sulla base del principio cosiddetto del contrario sactus quindi un procedimento gemello e similare speculare rispetto a quello di primo grado che aveva portato al rilascio dell'AUA il provvedimento di revoca il provvedimento di annullamento dell'AUA viene rispettivamente adottato dall'autorità competente e rilasciato dal SUAP quindi esattamente come avveniva come era avvenuto in primo grado in fase di rilascio dell'AUA quindi come l'AUA era stata adottata dall'autorità competente rilasciata dal SUAP così adesso il provvedimento di revoca di annullamento dell'AUA deve essere adottato dall'autorità competente rilasciato dal SUAP e poi notificato naturalmente dal gestore e comunicato ai soggetti competenti in materia ambientale non solo anche ad altri eventuali soggetti pubblici infine alcune linee guida dei regionali come quelle del Friuli Venezia giure e della Basilicata hanno previsto la possibilità per l'autorità competente di non procedere a revoca o annullamento dell'AUA ma solo alla modifica laddove ciò sia possibile cioè laddove debba essere annullata o revocata un atto abilitativo uno dei titoli abilitativi che fanno parte dell'AUA e l'AUA possa stare in piedi fondamentalmente l'impianto possa continuare a esercitare anche senza quel titolo abilitativo allora questo si fa per una questione di salvezza di economicità del procedimento e soprattutto di tutela degli interessi anche dell'interessato del gestore naturalmente questo in esito ha una valutazione di carattere tecnico discrezionale che può compiere soltanto l'autorità competente in sinergia con i soggetti competenti in materia ambientale in estrema sintesi e correndo io come dire spero di aver esposto un po' tutti quelli che sono i principali istituti contemplati dal DPR 59 adesso darò una veloce scorsa alle vostre domande che avete posto in chat e risponderò a qualcuna fino alle 11 e mezza allora vediamo la città metropolitana di Torino invia un avvio di procedimento al SUAP invitandolo ad inviarlo all'operatore quindi la procedura non è giusta ma il SUAP non conosce uffici e dimendenti della città metropolitana di Torino che si occuperanno della pratica ma da quello che leggo da quello che capisco quindi la città metropolitana di Torino prepara a lui l'avvio di procedimento la comunicazione del procedimento ma non lo non lo manda direttamente all'operatore ma lo trasmette al SUAP invitandolo a inoltrarlo ma insomma non è importante che appunto all'importante che al gestore arrivi una comunicazione di avvio del procedimento fatta dal SUAP che poi lo prepari a monte la città metropolitana di Torino non la ritengo una cosa come dire fuori dal mondo quindi può anche starci la comunicazione seconda domanda la comunicazione di avvio del procedimento unico da parte del SUAP deve quindi contenere i dati della provincia no non necessariamente abbiamo visto in una precedente slide scusate ci torno a bomba quelli che sono i contenuti della comunicazione di avvio del procedimento eccolo qua l'articolo 8 l'amministrazione è competente l'oggetto del procedimento promosso l'ufficio il domicilio digitale dell'amministrazione e la persona responsabile del procedimento allora voi dovete considerare che per così dovrebbe essere non sempre ma così dovrebbe essere l'interfaccia di tutta la pubblica amministrazione nei confronti del privato è sempre il SUAP quindi è giusto inserire i dati da responsabile di procedimento del SUAP quindi dati del SUAP e non della provincia perché appunto le informazioni le notizie le eventuali richieste di integrazioni fino ad arrivare alla fino ad arrivare al rilascio al rigetto del titolo naturalmente provengono dal SUAP quindi teoricamente è corretto inserire i dati del SUAP altra domanda in caso non venisse messo il provvedimento AWA da parte della provincia nei tempi come dovrebbe procedere il SUAP allora questa è una domanda che ringrazio la collega che lo ha posto che spesso e quasi sempre viene fatto in questi in questi webinar in genere devo dire la lamentela è opposta l'autorità competente che si lamenta delle lungaggini del SUAP che non trasmette la pratica eccetera però può capitare senz'altro che il SUAP stia attendendo conclusa la conferenza dei servizi concluso il procedimento autorizzatore stia attendendo l'adozione dell'AWA da parte dell'autorità competente per poterla poi rilasciare al privato se questo non avviene lei come qualsiasi collega del SUAP non può fare nulla voi potete soltanto diffidare l'autorità competente potete magari mettendo per conoscenza il gestore così ci cauteliamo ma certamente non può assolutamente in una maniera più assoluta rilasciare un'AWA se non è stata previamente adottata dall'autorità competente una domanda cruciale questa è mi carica di responsabilità vediamo un po' se riusciamo a rispondere cosa debba o possa fare il SUAP in caso di silenzio della provincia e o dei soggetti competenti in materia ambientale ci sono due casi il primo AWA ricompresa in una più ampia conferenza di servizi SUAP perfetto quindi articolo 4,5 qui il SUAP dovrà assumere una determinazione conclusiva in presenza di un'autorizzazione all'emissione in atmosfera però il silenzio non potrà considerarsi a senso implicito e su questo siamo d'accordo per l'autorizzazione allo scarico invece la cosa è dubbia come si agisce in tali situazioni io spero di averle già risposto purtroppo in senso dubitativo nella mia esposizione cioè in questi casi come lei ha correttamente detto e poi dopo veniamo al punto 2 come lei ha correttamente ricostruito nel caso del 269 non possiamo fare proprio nulla quindi questo lo prevede l'articolo 14 bis comma 4 della 241 richiamato insieme a tutti gli altri articoli 14 seguenti non soltanto dal 160 ma anche dal DPR 59 del 2013 questo è l'unico caso l'abbiamo visto prima in quella slide in cui non possiamo andare avanti quindi scriveremo metteremo a verbale faremo tutto quello che ci serve fare per smarcare in qualche modo scusatemi l'espressione un po' forte per smarcare la nostra responsabilità rispetto a una conferenza che rischia di allungarsi ben oltre i termini massimi previsti dalla normativa ma di più non possiamo fare per quanto riguarda l'autorizzazione allo scarico io le rimando le rimando la criticità che le ho appena esposto quindi alcune regioni come ad esempio la regione Sardegna si sono fatte carico di dire come interpretano come interpretano il silenzio altro altro purtroppo non altro purtroppo non si può fare se la cosa può servire in una fase di conferenza quindi mancanza di input da parte del che non può arrivare da noi dal sistema di SUAP ma deve arrivare necessariamente da autorità superiori quindi sicuramente regione soggetti competenti autorità competenti io mi rifarei a una come dire a una potrei far rientrare questa l'autorizzazione allo scarico la potrei assimilare come dire al 269 come autorizzazione non suscettibile di silenzio e assenso e scriverei diffiderei e metterei in mora il soggetto competente a rilasciare il titolo abilitativo oppure come alcune autorità competenti ho visto fare prendere in mano la situazione prendere il toro per le corne come si usa dire e considerarlo suscettibile di silenzio e assenso quindi non mi sento di propendere per nessuna delle due soluzioni ma queste sono il ventaglio delle soluzioni possibili poi il secondo caso che lei prospettava procedimento per il rilascio della sola AWA quindi qua parliamo di articolo 4,7 qui per il DPR 59 sia l'adozione dell'AWA che la conferenza dei servizi sono di competenza della provincia senz'altro non si vede quindi come il SUAP possa emettere un provvedimento positivo o negativo che sia in caso di silenzio dell'autorità competente cosa va fatto? non si vede come il SUAP possa emettere un provvedimento positivo o negativo che sia in caso di silenzio dell'autorità competente no ma infatti io l'ho detto se non c'è l'ho risposto alla collega di prima se non c'è un'AWA adottata voi non potete fare nulla quello che farei io è eventualmente scrivere all'autorità competente appunto far notare che la conferenza dei servizi si è conclusa e quant'altro e voi state aspettando l'adozione dell'AWA per poter poi come prevede la norma articolo 4 rilasciarla al gestore quindi assolutamente io non farei diversamente allora veniamo a un'altra domanda AIA via smaltimento rifiuti esensi del 152 procedura autorizzazione esensi del 387 gestione bonifica non sono di competenza SUAP giusto? allora qua ancora una volta è sicuramente l'AIA e la via assolutamente no la via è regionale o statale addirittura a seconda della a seconda della della tipologia di impianto per altre dipende dalla normativa regionale io non conosco purtroppo in maniera così profonda la vostra normativa di settore quindi non so dirvi se tutto quello che lei ha elencato è stato delegato ai comuni e quindi per essi al SUAP altrimenti in mancanza di una delega espressa sicuramente non sono attività che competono al comune ma in genere o agli enti superiori quindi province città metropolitana o regione altra domanda come si concilia la durata dell'AUA con quella del permesso di costruire che dura tre anni dall'inizio lavori no allora sì chiariamo l'AUA riguarda sia la costruzione che l'esercizio dell'impianto naturalmente l'articolo 10 del 15 del DPR 380 del 2001 prevedono che il cantiere debba essere dal titolo abilitativo che in questo caso sarà l'AUA perché incorporerà il permesso di costruire il cantiere deve essere aperto entro un anno e dall'inizio dei lavori deve essere concluso entro tre anni comunque sia il permesso di costruire è dentro l'AUA quindi sicuramente la scadenza rimane quella dei 15 anni proprio perché l'AUA non è un titolo semplicemente all'esercizio l'AUA è un titolo onnicomprensivo che può riguardare la costruzione e l'esercizio se io mi avvalgo della possibilità non è un avvalersi non è una possibilità è un obbligo se io ho una conferenza di servizi convocate senza degli articoli 4 e 5 nei quali ho invitato anche come dire ho invitato l'ufficio tecnico e mi ha rilasciato un permesso di costruire io alla fine comunque rilascerò un'AUA che incorporerà un'autorizzazione non all'esercizio ma alla costruzione qual è il permesso di costruire ma anche in campo ambientale anche lì possiamo avere anche il 269 può incorporare un'autorizzazione alla costruzione può necessitare un permesso di costruire quindi non è una cosa strana l'AUA comunque durerà 15 anni allora in caso di stanza di AUA è permesso di costruire il gestore è obbligato oppure ha facoltà di attivare il procedimento unico no qua è sicuramente come dire non ci sono proprio dubbi si applica il procedimento unico quindi non devo fare non devo fare una presenterò un'istanza al SUAP contenente appunto l'AUA e il in tutta la modulistica in tutta la modulistica unica c'è il flag non ho vi chiedo scusa non ho visto il modello la modulistica unica approvata in quella circolare del 2015 dalla vostra regione però in tutta perché c'è nel modello nazionale dove per scontato che ci sia c'è un flag dove dice devi acquisire devi acquisire soltanto uno o più dei sette titoli previsti dall'articolo 3 del DPR 59 o ti servono altri ulteriori atti di assenso fuori dal perimetro dell'AUA se clicchi mi servono anche altri naturalmente devi indicare che ti servirà anche il permesso di costruire quindi in quel caso il SUAP sa che deve lui sicuramente indire ed eventualmente convocare la conferenza di servizio attraverso i sensi dell'articolo 7 del 160 e quindi sì procedimento 1 allora in via generale può sussistere la mera notifica se l'AUA è l'unico documento da essere trasmesso oppure occorre un provvedimento conclusivo no come dicevo prima anche se può sembrare come dire una mi rendo conto una duplicazione può sembrare un appesantimento l'AUA deve essere rilasciata con un proprio autonomo provvedimento da parte del da parte del SUAP è chiaro lo dicevo prima che se si tratta del caso da lei esposto problemi grossi non ce ne saranno nel senso che lei replicherà nel suo provvedimento conclusivo quello che è l'istruttoria quindi la parte sia di narrativa sia di dispositiva prevista nel provvedimento adottato dall'autorità competente io lo dico sottovoce così con accordi con la mia città metropolitana chiedevo di avere anche un testo editabile in maniera tale che come dire potessi fare almeno in parte un copia e incolla delle cose che c'erano scritte nell'istruttoria dei colleghi della città metropolitana di Napoli senza bisogno di aver poi materialmente scrivere al computer tutto quello che c'era scritto nell'AWA adottata quindi sono piccoli accorgimenti e piccoli scamotage che con la collaborazione istituzionale fra di noi che deve esserci sempre fraienti è possibile risolvere e soprattutto con i quali è possibile velocizzare anche un adempimento non strettamente necessario quando quale appunto rilascio del provvedimento finale la conferenza dei servizi altra domanda deve essere indetta dal suo e non dall'ente competente lo dicevo prima questo lo trova la risposta nell'articolo 4 del 59 il comma 7 dice semplicemente che se non usciamo dal perimetro ambientale l'indice dell'autorità competente se invece usciamo dal perimetro dell'articolo 3 del 59 quindi oltre a uno dei sette endoprocedimenti abbiamo anche il un permesso di costruire un'autorizzazione paesaggistica un laosta sismico quello che volete voi quindi usciamo dal perimetro dell'Avo in quel caso l'ente procedente quindi chi deve indire ed eventualmente convocare la conferenza è il SUAP e non l'autorità competente nel caso di procedimento per il rilascio di sola AUA l'autorità competente può non indire la conferenza ai servizi e l'ho scritto nell'atlight precedente guardi dipende se i casi di attivazione sono sempre quelli perché perché è scritto nell'articolo 4 del 59 sono sempre quelli previsti dell'articolo 14 della 241 cioè se ho bisogno di acquisire atti di assenso comunque denominati da parte di almeno due soggetti pubblici quindi abbiamo due SCA o uno SCA e l'autorità competente che devono rilasciare un titolo allora lì non ho scelta devo necessariamente indire la conferenza altrimenti assolutamente posso attivare un normale procedimento unico e quindi inviare la pratica così come un normale procedimento unico fuori conferenza ai servizi all'autorità e ai soggetti competenti quindi questo è quanto per ora io spero di aver risposto esorientamente a tutte le vostre domande se non ce ne sono altre mancano 4 4 minuti Paola non so aspettiamo un altro po' allora sì eccomi vedo che stanno continuando a scrivere nella chat ma aspetterei solo qualche attimo altrimenti possiamo iniziare con i saluti e poi troveranno tutto il file con le risposte per iscritto nella solita pagina di eventi insieme alle slide e alla registrazione vedo che non ci sono altre domande dunque auguro a tutti voi un buon proseguimento ti ringrazio tanto Riccardo grazie a tutti voi e ci vediamo la prossima settimana arrivederci grazie mille grazie